Vai! Era 23 dicembre e a terza c'erano il presepe e erano due e mezza da notte e Pompeo disse a Dio dove mi parlo, che giove, fa freddo, e io c'erano il presepe. Io ero andato qua su, dentro il presepe, da paghi, che dormia. Io toccavo una volta e salvo. Ah, tutti ciò che parlano, ah madonna, San Giuseppe, oh buo la semella. Ci faccio a Pompeo, su io, Peppe, dici lo spazzino non muore, che ci c'erano. Ah figli puttani, che andavo io e vedi con lo spazzino non muore. Da Ristorante Colamaia, di Pizzo, Giuseppe Nirca. Grazie.